Ministro della Giustizia e Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ben trovato! Sono una vittima del vaccino, non lo posso provare, ma ragionevolmente credo sia così. Ho degli esami che, diciamo, danno solo indicatori di pericolo di trombosi che sono le stelle, quindi incrocio le dita e spero di uscirne. Diciamo che sotto questo punto di vista io dovrei essere oscurato da Telegram o da quant'altro perché porto una narrazione basata sulla mia esperienza personale che è diversa da quella del mainstream. Non sono un Novax, tant'è vero che mi sono vaccinato, però adesso ci penserei due volte. Stavo bene, non avevo febbre, non avevo nulla, quel valore lì, uno strano valore che ho imparato a conoscere, per me era totalmente sconosciuto, che si chiama Didimero, che è un indicatore del pericolo di trombosi che uno si porta, roba che io non ho mai avuto. Adesso incrocio le dita perché è estremamente elevato e sono una sorta di dead man walking.